Allora cari telespettatori ben ritornati qui con noi, ben ritornata naturalmente nel nostro spazio di approfondimento con l'ospice CGL del Veneto, vedete ben precisa alle nostre spalle, Giovanna Capuzzo che pensionata non è, ma è presidente regionale di Feder Consumatori, che fa parte del grande mondo CGL, Feder Consumatori regionale Veneto, che dà dei consigli per le famiglie, per gli anziani, per i pensionati, per i nonni e non soltanto, ogni volta affrontiamo una questione diversa e quando c'è la nostra Presidente andiamo anche ad espanderci ad altre problematiche che non riguardano solo gli anziani, però sappiamo che agli anziani sta particolarmente a cuore la salute economica anche dei nipoti e dei figli, che farebbero qualsiasi cosa pur di supportarle, in molti casi li supportano con le pensioni per quanto esigue, danno una mano importante e quindi la questione rincari è all'ordine del giorno. Chi meglio di voi ha conoscenza di tutti i rincari che ci possono essere? Allora, affrontiamo il capitolo scuola, incominciamo, visto che la scuola è incominciata, almeno si spera che vada avanti. Eh sì, la scuola sta cominciando, la scuola è cominciata con qualche difficoltà, perché abbiamo visto insomma qualche difficoltà organizzativa, perché molti istituti attualmente non hanno ancora un organico completo e quindi non riescono ancora ad andare a regime, quindi parliamo ancora di parecchie scuole che hanno ancora degli orari provvisori e non si sa quando si rientrerà, tra virgolette, nella normalità, però accantonato questo, uno dei problemi che noi abbiamo affrontato già, diciamo, prima dell'inizio del suonare della prima campanella, diciamo così, era uno studio che abbiamo fatto per lo più a livello nazionale, dove però abbiamo verificato che quest'anno, anno che ricordiamo essere particolarmente difficile per molte famiglie, ovviamente a seguito delle ovvie ragioni ricadute dovute ovviamente dalla situazione pandemica, si sono trovati ad affrontare per poter mandare i propri figli a scuola. Secondo i calcoli che noi abbiamo fatto, soprattutto per le famiglie che hanno i figli che si apprestano al primo ciclo di studi, elementari, ma soprattutto medie e superiori, avranno la necessità o hanno avuto la necessità di sborsare indicativamente per figlio circa 540 euro solamente per l'acquisto del kit scuola. E come kit scuola ovviamente non mi riferisco alla questione libri, vocabolari, apparecchi tecnologici, ma solo il kit necessario per poter frequentare le lezioni. Astucci, cartelle, quaderni, pennarelli, diario e tutto quello che chiaramente nell'arco poi di tutto l'anno scolastico. Quindi a questi si devono aggiungere i libri? Assolutamente sì, quindi è una spesa di fatto base e che per lo più anche in questo caso, un po' come abbiamo parlato in altre occasioni, non può beneficiare di alcun bonus, perché i bonus che mettono in piedi i comuni piuttosto che le regioni riguardano per lo più l'acquisto di libri scolastici o piuttosto le rette scolastiche, ma raramente riguardano l'acquisto dei kit scuola. Solo in alcuni casi abbiamo visto che alcuni comuni fanno degli accordi con qualche cartoliberia o qualche venditore di questi prodotti di cartoleria per trovare una sorta di kit a prezzi calmirati, però per esempio attualmente abbiamo visto che pare non ce ne siano, quindi le famiglie devono autonomamente andare alla ricerca ovviamente del prezzo più conveniente per poter acquistare questi beni che di fatto sono reperibili, vengono ovviamente sostituiti con molta rapidità, un quaderno dura ovviamente quello che dura, lo stesso la penna, la matita e tutto il resto. Quindi nell'arco ovviamente di tutto l'anno scolastico una famiglia, ripeto, per figlio avrà un esborso di circa 540 euro, che è una spesa molto molto importante. Esatto, questa è una cosa, fate bene sottolinearlo, perché tra l'altro c'è anche il greviule, poi c'è tutta una serie ovviamente di costi, i zaini che già quelli costano in sé per sé, perché non si cambiano ogni anno, però insomma oltre che l'abbigliamento che i ragazzi crescono, i bambini crescono come funghi, per cui c'è bisogno di rinnovare l'abbigliamento, quindi la spesa figli in generale diventa molto molto onerosa. Tanto più, perché come dicevamo in premessa, questa è solo una parte dei costi effettivi per far ovviamente far sì che il figlio possa frequentare in maniera corretta il proprio ciclo di studi, perché a questo si somma l'acquisto dei libri, dei dizionari e anche di quelle che ormai sono le apparecchiature tecnologiche che in molti casi ormai sono diventati complementari per poter ovviamente studiare. Guai non averle all'ultima vanguardia, no? Ma al di là di questo ovviamente è stato l'esperimento, se così possiamo chiamarlo, quello dell'anno scorso quando i figli erano in DAD, dove ovviamente la possibilità di frequentare le lezioni a distanza era vincolata al possesso di un dispositivo che ovviamente consentisse la connessione, oltre al dispositivo i programmi adeguati, una connessione adeguata e sono tutti i costi che ovviamente devono essere messi insieme per considerare qual è effettivamente il costo che una famiglia deve accollarsi per poter far godere del diritto allo studio del proprio figlio, motivo per il quale noi abbiamo sostenuto che anche in questo caso è necessario intervenire soprattutto a favore e a sostegno delle famiglie più deboli, perché tanto più un problema di natura economica o piuttosto sociale deve in qualche modo intaccare il diritto allo studio di ogni persona. Assolutamente, quindi voi avete fatto questa ricerca a livello nazionale però ci sono delle differenze territoriali anche molto rilevanti tra l'altro. Sì, chiaramente sì. Non trascuriamo perché ci è stato sottolineato il costo anche dei mezzi di trasporto. Eh sì, non solo i mezzi di trasporto, tra le altre cose soprattutto in questa situazione un po' particolare dove ben sappiamo che il trasporto pubblico ha ancora qualche problema e abbiamo considerato anche che ci sarà un aumento anche sui costi relativi alla benzina perché ci sono molte famiglie che noi abbiamo intervistato proprio per comprendere come poi loro avrebbero affrontato l'avvio di questo nuovo anno scolastico che hanno deciso prudenzialmente o anche per comodità e hanno la possibilità di farlo di poter fare loro stessi il trasporto del tragitto scuola-casa, casa-scuola, cosa che magari negli anni precedenti non avrebbero fatto perché avrebbero ovviamente affidato il tragitto ovviamente per raggiungere l'istituto scolastico ai mezzi di trasporto pubblico. Adesso attualmente con ovviamente la contingentazione della presenza all'interno dei mezzi e anche ripeto forse per una forma di autotutela e per ovviamente mettere più in sicurezza il proprio figlio molte famiglie hanno scelto proprio di fare da servizio trasporto quindi aumentando le spese previste per il ciclo di studi dei figli con ovviamente il costo della benzina in più dovuto ovviamente al tragitto. Ecco in questo ci sono in molti casi gli anziani che si sono resi disponibili, i nonni? Beh i nonni sono ovviamente una parte fondamentale di aiuto per tutte le famiglie che possono fortunatamente poterne fare affidamento. Tanto più ripeto in questo periodo di caos in cui più famiglie purtroppo hanno dovuto anche subire una rivisitazione di quelli che erano proprio gli orari scolastici da un giorno all'altro e quindi hanno dovuto fare affidamento ai nostri nonni che come si diceva anche in premessa il più delle volte sono anche un sostegno non solo organizzativo ma anche economico per molte famiglie in difficoltà. Perfetto, allora aumenti abbiamo accennato al discorso delle scuole però gli aumenti sono un po' indiscriminati, preoccupano tantissimo quelli energetici, appunto i carburanti eccetera. Voi come associazione consumatori che cosa avete anche qui analizzato, riscontrato e cosa riuscite a fare o vi sentite anche di consigliare? Allora la questione è molto delicata e particolare. La preoccupazione è che in questo periodo storico che potevamo considerare di avvio, di ripresa è arrivata ovviamente la notizia di questa batosta sull'aumento dei costi delle materie prima, di energia elettrica e del gas e di tutti gli aumenti che indirettamente questi rincari ovviamente causeranno. Era già stato detto in una puntata precedente che già insomma la situazione italiana per molte famiglie, parliamo di 2,3 milioni di utenti, è precaria. Sono praticamente persone che vivono in povertà energetica, non hanno quindi le possibilità economiche di poter far fronte in maniera dignitosa ed adeguata al proprio riscaldamento, al proprio raffrescamento se così si può dire o all'utilizzo solamente degli elettrodomestici. Quindi diciamo che questa situazione o perlomeno l'annuncio che è stato fatto di questi importanti rincari, laddove il governo non dovesse provvedere in maniera importante e diciamo anche in maniera a lungo termine, quindi non solamente per quanto riguarda questa che potremmo chiamare un'emergenza, ma con ovviamente interventi di detassazione che siano appunto strutturali e definitivi, in modo tale che ci siano delle effettive calmerazioni ed abbassamenti sensibili, per quanto riguarda ovviamente poi il prezzo finale che l'utente va a pagare nella sua bolletta dell'energia elettrica piuttosto che del gas o della benzina. Che poi tra l'altro è rimasto in sospeso, non se lo tira fuori adesso perché se no scoppia veramente l'agitazione generale. C'è anche il discorso dell'IVA? C'è anche il discorso dell'IVA, soprattutto in alcuni casi noi abbiamo un'IVA che viene di fatto applicata anche sulle tasse, quindi abbiamo una tassa su tasse, quindi è chiaro che è necessario riformulare completamente il sistema di tassazione di queste risorse energetiche, non solo perché ovviamente i rincari che possiamo vedere dalla nostra bolletta sono derivanti da voci che in alcuni casi sono proprio obsolete e potrei anche definire inutili, però vanno a gravare in maniera comunque consistente su quelli che sono poi i bilanci familiari, sui quali ovviamente in maniera probabilmente ancora più importante adesso le famiglie devono far conto, perché appunto con i rincari che abbiamo detto prima della scuola, li sommiamo ai rincari delle bollette della luce del gas, li sommiamo agli aumenti indiretti che ci saranno per gli aumenti dei costi di produzione, distribuzione e quant'altro, è chiaro che a spanne noi abbiamo fatto indicativamente una stima di un aumento annuo di oltre 1200 euro per famiglia, che per molte famiglie cominciano ad essere delle cifre decisamente insostenibili. Secondo voi ci sono delle aperture per quanto c'è delle possibilità che rivedano certe cose? Secondo le dichiarazioni che appaiono in questi giorni, il Ministro Cingolani ha già comunicato che sono al lavoro e in teoria nel prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbero appunto discutere sulla rivisitazione proprio della tassazione che attualmente è in vigore su queste fonti energetiche. È chiaro che la situazione però era già stata in qualche modo accalmierata nel precedente trimestre, dove appunto gli aumenti erano già stati in qualche modo abbattuti da un precedente intervento governativo, però è chiaro che un aumento così importante, molto probabilmente inaspettato per tutti, deve ovviamente richiedere un ulteriore intervento probabilmente molto più massiccio e ripetiamo strutturale. Assolutamente. Allora, queste sono sempre cose che fanno stare, fanno riflettere, fanno star male perché poi non è mai finita sostanzialmente, è mai finita. Quali sono le questioni che sono emersi in particolar modo in questo periodo estivo, le problematiche più frequenti, per le quali vi sentite come associazione di consumatori di dare delle raccomandazioni calorose ai nostri telespettatori e quindi ai cittadini? Sì, cambiando un po' argomento, quindi non parlando più della questione dei prezzi, diciamo che i problemi che ci sono stati messi all'attenzione quest'estate sono stati quelli relativamente alle truffe bancarie e anche assicurative purtroppo. Ci sono infatti anche assicurative. Purtroppo diciamo l'avanzamento tecnologico ha molti lati positivi da una parte, ma anche molti lati oscuri e molti lati negativi dall'altra. Noi abbiamo visto purtroppo un utilizzo ovviamente improprio e ovviamente dannoso da parte appunto di fantomatici o agenti, in questo caso per quanto riguarda le assicurazioni, o finte banche, ovvero banche che si fingono di essere una banca reale utilizzando ovviamente i mezzi tecnologici per far sì che il povero consumatore cada nella trappola e sia ovviamente indotto a credere che chi lo contatti sia effettivamente la propria filiale piuttosto che il proprio agente assicurativo e quindi alla fin fine si trova o una decurtazione di soldi dal proprio conto, oppure come in uno dei casi che ci è successo purtroppo di recente, il pagamento effettuato di un premio assicurativo per ovviamente l'RC Auto, quindi l'assicurazione è quella proprio base che è necessaria per poter utilizzare il proprio mezzo, effettuato secondo appunto i dati che abbiamo a disposizione verso il proprio agente, abbiamo poi scoperto che la polizza che comunque è stata inviata era una polizza falsa, l'agente non era la persona che l'interlocutore che il nostro associato pensava fosse, ma era una persona che in qualche modo era riuscita a venire in possesso dei dati, del numero del telefono dell'agente e spacciandosi per questo è riuscito a fatto truffare il nostro associato che purtroppo oltre al danno della perdita economica si è trovato impossibilitato di utilizzare l'auto perché di fatto era scoperta dall'assicurazione minima necessaria. Allora cosa fare in questi casi? Allora quello che noi consigliamo sempre intanto è portare la massima attenzione, soprattutto stare attenti, molto attenti a dei piccoli segnali e diciamo a quei piccoli errori, piccoli o grandi errori che questi truffatori commettono. Bisogna sempre stare attenti alla richiesta che ci viene fatta per rilasciare dati, soprattutto dati di natura personale e dati bancari o soprattutto i dati che in qualche modo possono consentire a chiunque di accedere al nostro conto corrente piuttosto che alla nostra carta di credito o comunque ai nostri risparmi. Sia chiaro, nessuno è titolato o autorizzato a fare queste richieste né al telefono né a mezzo mail né attraverso un portale. Se c'è la necessità di effettuare delle verifiche o dei movimenti questi li possiamo fare solamente noi o rivolgendoci direttamente a una filiale fisica ma non dobbiamo assolutamente rilasciare né dati né fotocopi dei nostri documenti di identità alla prima persona che ci contatta soprattutto con dei mezzi che possiamo chiamare poco ortodossi. Adesso si usa molto la richiesta attraverso Whatsapp per esempio di invio di documenti, di codici bancari piuttosto che, e questo è un consiglio che chiediamo a tutti di ricordare a chiare lettere i PIN per accedere ovviamente all'home banking piuttosto che altri codici segreti della propria carta di credito. Non lasciarli mai, tra l'altro custodirli se è necessario scriverli in un posto ovviamente sicurissimo e lontano da persone che possono ovviamente indebitamente impossessarsene e stare sempre attenti alle richieste. E nel caso in cui qualsiasi richiesta ci risultasse in qualche modo strana o anomala, prendersi tutto il tempo per fare le verifiche. Tanto voglio dire, qualsiasi richiesta che ci viene fatta non viene mai fatta nell'urgenza e nell'emergenza, almeno che proprio non si tratti di un'urgenza o un'emergenza. Quindi è necessario prendersi tutti i tempi, fare le verifiche, se volete contattare ovviamente ai fedeli consumatori, che vi può dare un consiglio e vi può ovviamente indirizzare a capire se quello che voi avete ricevuto è effettivamente un messaggio corretto e è una modalità di contatto che va bene, oppure se è un inizio di una truffa e quindi voi siete ovviamente correttamente invitati a non darvi seguito o se ci siete già caduti rivolgetevi a noi per ottenere ovviamente l'assistenza adeguata e sporgete denuncia. Assolutamente, ecco quando vengono richiesti anche compagnia assicurativa o quant'altro di mandare il proprio IBAN, però quello non dovrebbe comportare in sé per sé, cioè possono versarti dei soldi ma non dovrebbero poterne prelevare o no? Sì, no, di fatto non possono prelevarli, però a seguito di quello poi ci sono altre richieste per le quali dopo ovviamente si riesce in qualche modo a trovare l'escamotage oppure comunque con l'IBAN potrebbero chiedere, se riescono ovviamente a ottenere anche altri dati, l'addebito di qualche somma. Ecco, quindi questo è altrettanto importante, quindi per quello bisogna fare un po' attenzione e vedere soprattutto qual è l'origine delle richieste che vengono fatte. Per quanto riguarda invece altre truffe che vengono perpetrate da dei cittadini, a noi all'identità della persona digitale o quant'altro e entrano nel conto bancario o comunque poi entrano in possesso della carta di credito. La banca risponde che può eventualmente risarcire con delle prove che non si è state di vario genere, però solo entro i 60-120 giorni, adesso non lo so, è vero questo? Allora, diciamo che quando succedono queste cose è opportuno muoversi con quanta più rapidità possibile, in modo tale da avere anche tutti gli elementi che possano sostenere il fatto che chi è purtroppo incappato in questa truffa non ha alcuna responsabilità. Quindi è opportuno ovviamente, non appena ci si accorge della cosa, sforgere prima di tutto un reclamo formale al proprio istituto di credito contestando appunto il prelevo non autorizzato della somma. Dopodiché ovviamente sforgere denuncia, chiaramente nella maggior parte dei casi, sempre contro i gnoti, per far sì che ovviamente anche le forze dell'ordine intraprendano il loro percorso di verifica relativamente appunto a queste forme di raggiro e di truffa e dopodiché nel caso in cui la banca non dovesse accogliere la richiesta, perché ovviamente è molto difficile che loro ammettano subito che ci sono delle falle insomma nella gestione da parte loro dei propri sistemi informatici, è possibile ovviamente ricorrere eventualmente all'arbitro bancario finanziario per vedere la definizione ovviamente nel 99% dei casi anche positiva della situazione. Quindi c'è questo arbitro bancario finanziario a cui per adire a questo arbitro si si rivolge a una situazione di consumatori? Allora diciamo che è uno strumento al quale può rivolgersi tranquillamente anche il cittadino in autonomia, è chiaro che però se si ha un'assistenza qualificata è più probabile insomma ottenere un risultato positivo perché seppur sia uno strumento ripeto messo a disposizione di tutti è comunque necessario fare un impianto o comunque una presentazione di una domanda con ovviamente delle determinate caratteristiche che abbiano anche dei riferimenti legislativi in modo tale che insomma rafforzino la richiesta presentata dall'utente di rimborso ovviamente. Comunque intervenire subito, chiudere i propri conti, cioè bloccare le possibilità di accesso, questa è la cosa fondamentale, andare in banca, aprire una trattativa con la banca per vedere cosa si riesce a recuperare. Assolutamente sì, non fare come purtroppo fanno alcune persone che tralasciano il problema forse perché ne hanno altri forse più importanti, però a volte c'è anche il fattore della vergogna di questo non bisogna assolutamente vergognarsi perché abbiamo visto che statisticamente colpiscono chiunque questi truffatori, quindi non c'è assolutamente motivo di vergognarsi, di essere incappati in queste truffe perché diciamo la velocità e l'abilità con i quali queste persone riescono a in qualche modo convincerci di effettuare un'operazione normalissima riguarda tutti, perché abbassare la guardia in questi casi è molto facile proprio perché loro sono stati ovviamente addestrati o si sono ovviamente adeguati per far sì di essere più persuasivi possibili e comunque utilizzano in maniera decisamente competente e in questo caso negativo i mezzi tecnologici, quindi con delle capacità proprio di utilizzo della tecnologia molto avanzate e sofisticate. Assolutamente, allora Giovanna Capuzzo, Presidente Federico Consumatori del Veneto, grazie di questo ulteriore approfondimento, questo intervento, quindi cari telespettatori, anziani o non anziani comunque avete capito, vi è stato molto attenti ma soprattutto cercare di affrontare le varie questioni, il prima possibile perché poi più passa il tempo più diventa anche difficile recuperare se c'è qualcosa da recuperare, vi terremo aggiornati se ci sono novità ma ve ne renderete conto per quanto riguarda l'energia elettrica, purtroppo ci se ne rende conto quanto prima, lo stesso per quanto riguarda anche i carburanti perché anche lì state facendo dei monitoraggi vero? Eh sì, purtroppo stiamo monitorando ovviamente tutto quello che riguarda la vita del consumatore nella quotidianità a 360 gradi e i carburanti è una di quelle voci che purtroppo vanno ad incidere su un bilancio della famiglia. Grazie ancora, grazie a voi telespettatori per questo capitolo però come sempre dovete restare con noi, noi continuiamo le nostre interviste dopo la pubblicità, quindi tra poco. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!